Oggi 4 dicembre, Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militaria, Barletta ha una cerimonia religiosa ufficiata dal Vescovo Monsignor Leonardo D'Ascenzo nella Basilica del Santo Sepolcro. La festa di Santa Barbara è un punto di riferimento per tutte le forze dell'ordine che hanno a che fare con gli esplosivi. Una festa che è anche un giorno particolare, visto quello che sta succedendo ai Vigili del Fuoco in tutta Italia. Festeggiamo Santa Barbara però con uno spirito naturalmente di sconforto per la perdita dei tre Vigili di Alessandria, Antonio, Marco e Matteo, mi voglio ricordare che hanno perso la vita nel adempimento del loro dovere. In ogni caso questa festa la dedicheremo, la messa la dedicheremo anche a loro grazie anche alla presenza del Vescovo di Trani, Barletta e Biceglie. I Vigili del Fuoco sono sempre in prima linea, non si tirano mai indietro e questa è una caratteristica che tutti gli italiani vi stanno riconoscendo. Dalle statistiche dicono che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è uno dei corpi più amati delle amministrazioni statali perché effettivamente dove ci sono delle problematiche noi siamo sempre pronti a intervenire nel limite delle nostre possibilità e ultimamente abbiamo pure dato una mano a un paese straniero come l'Albania dove abbiamo mandato per il terremoto oltre 200 persone e una quarantina di mezzi operativi a Durazzo. Eccellenza, è un momento di festa ma per esempio per i Vigili del Fuoco è un momento anche di riflessione per tutto quello che è successo. È un momento celebrativo di questo corpo meraviglioso che opera in maniera straordinaria, incomiabile, di uomini dediti alle istituzioni, al senso dello Stato che mettono in prima linea la propria vita al servizio degli altri. Quindi è un momento importante in cui occorre attestare in questo momento celebrativo del corpo la presenza forte di tutti quanti noi e di tutta la cittadinanza. È un giorno di festa ma è anche un giorno per riflettere sull'importanza di uomini e donne che ogni giorno rischiano la vita per il bene comune. Sì, è un giorno di festa ed è un giorno appunto in cui i Vigili del Fuoco, la Marina, la Guardia Costiera si ritrovano per un momento anche di preghiera per affidare il loro impegno, il loro servizio ancora una volta alla protezione della loro Santa Patrona, Santa Barbara. È un momento per riflettere sull'importanza del loro servizio e oggi nella celebrazione della Messa il brano del Vangelo è proprio un invito ad accogliere un modello di servizio che è quello di Gesù il quale va incontro alle necessità delle persone ma lo fa con il cuore e lo fa mettendo in gioco se stesso senza risparmiarsi.